Buongiorno a tutti, conferenza stampa pre-partita, domenica ore 18, Lazio e Las Verona, sesta giornata di Serie A team. Iniziamo pure con Davide Cailotto, Telearena, grazie. Ecco, ciao mister, ben trovato. Ti ha impressionato la Lazio ieri sera? Mi, nel senso che grandissimo ora alla Lazio, ma ho visto un Feyenoord che avevo avuto modo di vedere in altre occasioni anche in campionato, totalmente disconnesso, quindi va dato indubbiamente onore alla Lazio, però diciamo gli è andata in discesa la partita, si sono allenati. Non so se poi magari mi smentirai, però dovrebbe essere stata una settimana in cui hai lavorato a pieno, cioè gli infortunati sono più o meno recuperati. Banale domanda, com'è stato lavorare bene una settimana senza niente in mezzo che sia mercato, turno infrasettimanale? Bello, è stato bello, è stato bello proprio per il piacere di allenare e ho visto i ragazzi felici di essere allenati. È stata una settimana di energia positiva, abbiamo avuto l'opportunità di ritoccare tanti aspetti che sono da migliorare, specialmente nella costruzione del gioco e mantenere quelli che sono stati gli aspetti positivi che da Bologna si sono visti, quindi l'aggressività, i duelli, però bene. Ti stanno cominciando a mettere un po' in difficoltà, nel senso delle scelte, perché vedo che i nuovi li butti dentro e danno ottime risposte, i senatori li conosci, qualcuno poi è dovuto stare in panchina, scalpita, voglia di giocare. Comincia ad essere una bella abbondanza questa? Sì, oggi abbiamo recuperato anche Davidovic e Piccoli, quindi con la Lazio siamo tutti, è un bene avere da scegliere, quindi la competizione fa bene a loro e fa bene a me nel prendere le scelte, perché in qualsiasi direzione vado casco in piedi se c'è competizione. Per valorizzare al meglio Doig e non penalizzare l'Azovic, puoi pensare di farlo alla Di Marco come braccetto di sinistra magari? È una tua idea questa? Sì, tant'è che con il direttore quando abbiamo condiviso la scelta di Doig, uno dei motivi era la sua possibile dottilità nel ruolo di terzo di sinistra. Credo che oggi sia prematuro, sia prematuro e credo gli va da lasciata la strabordanza che sta avendo sulla fascia, quindi la corsa. Già dietro ci sono letture diverse, devi pensare un po' di più. Insomma è un passaggio troppo veloce, però in futuro perché no? Allora, abbiamo visto e apprezzato tantissimo la crescita della squadra. Cos'è che ancora non ti piace però? Dov'è che, per esempio penso al primo tempo, un po' passivo rispetto poi a un secondo che è stato strabordante. Ecco, cos'è che deve migliorare questa squadra? Allora, deve migliorare tanto con la consapevolezza che quello che abbiamo fatto in due o tre settimane è stato tantissimo. È stato uno sforzo di energie nervose alto e quindi in grande serenità andiamo a ritoccare quello che può essere la fase offensiva nei piazzati, lo sviluppo di gioco senza perdere l'identità forte che deve essere l'aggressività. Parlando del primo tempo, in conferenza stampa mi era stata fatta una domanda dalla Gazzetta dove mi diceva che aveva avuto la stessa roba che mi dici te e lì ho risposto no, non ho avuto questa sensazione. In realtà, rivedendo la partita, aveva ragione. Dal campo l'ho vissuta come, perché vivi anche la quotidianità con ragazzi, l'impatto dei pochi giorni da una partita all'altra, come faccio tutto giusto, sto facendo tutto giusto, aspetta quando in realtà le partite, noi non siamo una squadra bianco o nero, cioè non ha sfumature di grigio, siamo bianchi o siamo neri. E quindi questa confidenza nell'andare a prenderli, attaccarli, che c'è stata, ma c'è stata con quel briciolo di paura, penso sia normale, guardando indietro il percorso. Ecco, poi ti dico, c'è un giocatore che si fa sempre molta fatica a giudicare, ed è Lasagna. Quando dobbiamo mettere un voto, almeno io, a Lasagna faccio sempre molta fatica, perché se dici non ha segnato, allora gli dai 4-5 perché a volte sbaglia dei gol facilissimi. Però poi con calma, con lucidità, vai a rivedere la partita e vedi che Lasagna c'è sempre. Ecco, cioè anche nell'ultima, le cose importanti, rivista la partita il giorno dopo, c'era Lasagna. Quindi hai anche tu questo imbarazzo nel giudicare le sue prove? No, io credo in Kevin come credo nella squadra in generale, e nelle mie non sono parole circostanze. E credo che ogni giocatore abbia il tempo, un tempo a scadenza, come per tutti, per dimostrare il suo valore. E se guardo al Kevin che è venuto al Verona, gli trovo tanti attenuanti. Perché Verona faceva un gioco tra le linee, non era il suo, quindi in pratica sono due anni che a Verona e non ha mai giocato per le sue caratteristiche. Ora vedo che lui arriva davanti alla porta, e per un attaccante il giudizio è quello. Quante volte arriva davanti alla porta? Kevin ci sta arrivando, può essere più preciso sì, ma sono convinto che arriverà. Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport, Corriere di Verona. Grazie, ciao Minister. Ti chiedo, previ di consapevolezza, quanta ne acquisite il Verona in queste settimane in cui avete fatto una full immersion anche per recuperare il tempo perduto? E quanta ne serve per andare a fare il risultato all'Olimpico con una Lazio che sta evidentemente bene? Serve coraggio, serve tanto coraggio. In effetti è la prima settimana vera in cui lavoriamo, sapendo che per andare a fare il risultato a Roma ci vuole il 110% più il 110% di ognuno di noi, perché l'ambiente sarà caldo per tantissimi motivi, quindi non solo in campo ma anche fuori dal campo, e quindi noi siamo pronti alla battaglia e ce l'andiamo a giocare. A proposito delle scelte, questa collocazione di Lazovic dietro le punte, notavo le statistiche sommariamente di Punto d'Arco, che ha avuto dei riscontri sui passaggi riusciti, sui passaggi effettuati, sui tiri fatti, al vertice di quello che è stato il rendimento individuale. Te lo aspettavi così dentro a un ruolo che, non dico sia nuovo perché già si è mosso in quelle zone in passato, però questo tipo di risposta ti ha sorpreso favorevolmente e quanto è anche una via per il futuro prossimo e poi anche più lungo termine? Ma sorpreso no, perché se no non ce lo facevo giocare. Oltre a quello che ti aspettavi? No, ti dico la verità, no perché Darko è un giocatore di calcio, e un giocatore di calcio completo lo può mettere in tutti i ruoli, e quindi poi se lo valorizzi per le sue caratteristiche è ancora di più, quindi la prestazione positiva e l'interpretazione del ruolo non sono state una sorpresa. È chiaro che lui deve dimostrare e tenersi stretto il ruolo nella maglia titolare, perché dietro c'è una concorrenza incalzante, Verdi, Rustic, Cortinovis, Piccoli, insomma ce n'è tanti che possono giocare in quel posto. Ti chiedo un'ultima cosa, naturalmente dato che li ha inseriti e hanno risposto molto favorevolmente. Mi sono dimenticato Callon, perché io stendo a fare tutti i nomi e poi ne perdo sempre qualcuno per strada. Vedi che allora ne hai tanti. Vedi, vedi. Dicevi di Callon, quindi ti dico anche di En e di Doig, quindi per quello che è il valore aggiunto che ti hanno dato i nuovi, insomma poi il mercato si è fatto attendere, poi sono arrivati uomini già pronti, che infatti è impiegato immediatamente, e che hanno dato riscontri più che buoni. I nuovi hanno portato competitività e freschezza, che è un aspetto che secondo me questa squadra aveva bisogno, perché chiamiamoli i senatori, non parlo di età, parlo di anni, qui a Verona sono stati spremuti, e quindi probabilmente ricaricarsi, ritrovare le energie nervose, non è facile tutti gli anni, e questo secondo me ha accelerato un processo che fa bene a noi squadra e che fa bene all'Ellas in generale. Alberto Fabri, Ellas Live. Ciao mister, ben trovato. Ti chiedo innanzitutto se hai già fatto gli accrediti alla tua famiglia, visto che contro la Samp era il gran completo, ha portato anche molto bene. Sì, ho chiamato anche altri parenti, così proprio... È stata una settimana, lo dicevi prima, molto importante, carica di energia, dove finalmente hai lavorato con quella che, almeno fino alla sosta del Mondiale, dopo si aprirà il mercato, però insomma sarà la tua ossatura. Ti chiedo, parlando prima di Lazio, c'è un altro senatore, è Michele Veloso, che ha preso in mano le redini del centrocampo e in mezzo al campo si è notato molto il suo ingresso nel primo minuto. Sì, allora, intanto ti faccio dieci anni che... Auguri anche a te a proposito. Sì, io 47, un po' di più di tempo. Sì, Michele è stata un'entrata, direi decisiva, in termini di spessore, di letture, di carisma e di gioco, perché se hai carisma e spessore ma non c'hai gioco, non puoi giocare. In realtà lui ha abbinato benissimo tutte e due e adora, perché anche per lui la competizione è altissima, sta tenendo bene le redini del centrocampo e vediamo se lo farà anche con la Lazio. Una Lazio allenata da un allenatore, un tuo collega, che per pochissime partite però è stato anche a Verona, ai tempi che furono dell'inferno della Serie C, come a Maurizio Sarri. Ve lo chiederti un commento in merito a Sarri, che è uno molto metodologico, che fa della parte atletica una prerogativa e poi anche tatticamente parlando, insomma era definito misto a 33 ai tempi. È un allenatore moderno, vorrà il tempo stesso con dei valori molto importanti. Grazie. Tanto mi fa piacere che mi definisci collega su, che ha 40 anni di calcio. Io ho cominciato ieri e lui è, cosa devo dire, definire un maestro di calcio, credo sia la cosa giusta. Un allenatore che si è creato da solo, si è formato da solo e quando ha vinto, ha vinto perché ha insistito nelle sue idee. Quindi noi sappiamo che troviamo una Lazio che gioca a memoria, che probabilmente sarà un pochino stanca per la Coppa, ma sarà carica insomma per risultato ottenuto, per la voglia di venire fuori da un inizio campionato un po' a singhiozzi e quindi loro saranno pronti e noi saremo pronti. Tommaso Badia, Calcio Hellas. Buonasera, mister. Ciao. Io volevo chiederti un po' di quelli che sono gli allenamenti, perché tu hai riportato una cosa che non vedevamo da un po', che è il doppio allenamento. Mattina e Pomerizzo, volevo chiederti un po' il perché di questa scelta e se a breve magari rivedremo qualche allenamento a porte aperte, mi viene da dire, visto che è un po' che non ne vediamo. Allora, parto dalla seconda e ti dico vediamo, parliamone. Per la prima, perché a livello metodologico per i carichi e la distribuzione dei carichi di lavoro, per quello che mi riguarda, va bene così. prego, c'è un'ultima domanda in fondo. Sì, buongiorno, mister. Un'ultima domanda riguardo Coppola. se può essere riproposto in una gara difficile come la prossima, appunto contro la Lazio, oppure, visto l'avversario di livello, se si affiderà a gente più esperta, con più esperienza dietro. Grazie. Ma, e ti rispondo dicendoti a Empoli come abbiamo giocato. Qual è stato il risultato? Quindi, secondo me, non si parla di età. Si parla di atteggiamento, di volontà, di come io vedo loro in settimana e di come loro performano la domenica. In fondo, l'ho detto l'altra volta, ma non vuol dire che sia una mancanza di rispetto per i miei ragazzi. Sta a loro essere scelti, io sono pagato per scegliere. Quindi, chi vedo meglio non ne faccio una questione di carta d'identità. L'ultima di Gaudio Pedalino. Ciao, mister. Ben trovato. Volevo dire, anche domenica, quando è entrato nel secondo tempo, Tames dimostra di essere un giocatore quasi indispensabile. Io lo chiamo la piovra perché sembra che abbia dei piedi di una piovra, ricupera palloni. Ecco, tu pensi che con l'abbondanza, avevamo detto prima, meglio abbondare che deficere, ci sia spazio maggiore per Tames come è stato nel passato? Ma credo, guarda, ti rispondo in maniera onesta e diretta. Lo spazio se lo deve guadagnare lui. Giocare 20 minuti o mezz'ora alto livello è importante, è un segnale che te sei presente, che te vuoi far parte del progetto. io credo che i dice veloso ad oggi abbiano fatto bene e si riconquisteranno la riconferma. Poi domattina Tames impressiona e gioca Tames. È chi sta a loro. Sta a loro. E comunque ti ripeto, non è un attenuante che do, però non è facile per ragazzi in generale leviamo il soggetto Tames. In generale aver passato le settimane si è passato noi, finito il mercato si è fatto tre partite in una settimana. Va bene, c'è spazio per tutti e più siamo meglio è, più arrabbiati i competitivi siamo meglio è per l'Ellas.